Gli arti superiori al cielo per la grammatica italiana Crusca, DJ alla console Mammi non si arrabbia se fai a tener frite Ma poi troca quando sbagli la locuzione piuttosto che Io ho cambiato idea tante volte, questo lo ripetiamo tante volte anche in questo progetto Si può cambiare idea e ci si può riorientare Io prima volevo fare l'insegnante ed educazione fisica, poi volevo fare il conservatorio Poi in quinta liceo è successo che quando la professoressa ha spiegato i limiti di funzione Un argomento importante per la maturità scientifica Io mi trovavo a casa con un po' di febbre Lì ho aperto questo libro di matematica e pum, colpo di fulmine, mi sono innamorato Scegliere la scuola giusta, niente paura Parola di Lorenzo Baglioni, testimonial della campagna per l'orientamento scolastico Promossa da Regioni Toscana, i giovani sì L'obiettivo è quello di affiancare gli adolescenti toscani in un passaggio cruciale della loro vita Ha detto il Presidente Eugenio Gianni, ricordando anche che la Toscana vuole essere leader nella lotta all'abbandono scolastico Una scelta di orientamento di formazione professionale che corrisponde a uno dei record che la Toscana tiene Ovvero l'essere la Regione che in Italia sul contrasto a quello che è l'abbandono scolastico È punto di riferimento perché riesce a sviluppare una capacità di orientamento dei giovani Che porta a delle scelte positive e non all'abbandono La campagna parla alle ragazze e ai ragazzi di terza media del biennio delle superiori Attraverso video, pillole informative, attività interattive ed eventi speciali che dureranno per tutto il 2021 Io credo che le ragazze e ragazzi vadano sicuramente informati Forse meglio del grande ventaglio di opportunità che nel nostro territorio regionale possono incontrare Penso ad esempio anche ai percorsi IFP che a volte sono poco conosciuti E quindi dare una corretta informazione sicuramente può aiutarli a fare la scelta giusta E noi da questo punto di vista ce la mettiamo tutta